buongiorno buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vorrei parlarvi del sesto episodio della stagione finale di attack on titan episodio che mi ha colpito particolarmente dato che mi aspettavo altro e quella cosa che mi aspettavo non è stata mostrata è come se fosse stata saltata o addirittura spostata per un altro momento inoltre in questo episodio si è respirato un po l'aria delle prime stagioni ma ovviamente andiamo con ordine non perdiamo altro tempo e iniziamo subito ah come sempre per gli anime only possono vedere questo video senza problemi infatti non farò spoiler riguardante il futuro dell'opera l'episodio 81 si intitola il disgelo titolo uguale al capitolo 123 infatti in questo episodio è stato trasposto la totalità del capitolo sopra citato e come ho detto all'inizio mi aspettavo un altro episodio cioè il flashback che viene mostrato nel capitolo 121 ma forse o è stato cancellato per andare più veloci o verrà inserito quando mostreranno una certa scena di impatto a livello emotivo non vi spoilerò quale ovviamente comunque sia vorrei iniziare parlando dei giganti colossali fuoriusciti dalle tre grandi mura di paradis io inizialmente prima della visione di queste scene e quelle successive a questo episodio ero un po scettico sul come potessero rendere perfettamente la parte della camminata dei colossali ovviamente avevo paura che usassero la computer grafica in un modo troppo ridottante ed invece grazie al gioco dei nuvoloni di polvere e alla lontananza dei giganti in questione sono stati molto bravi a disegnarli ed hanno usato lo stesso escamotage usato da isayama nel suo manga andando più avanti nella storia i colossali delle mura verranno mostrati sempre più spero che non mi cadano in qualche strafalcione che stanno andando bene inoltre perché il gigante corazzato ha perso la sua corazza la risposta è alquanto semplice eren ha detto che tutte le forme di indurimento sono state distrutte quindi anche la corazza del gigante di reiner e il cristallo dove era rinchiuso a enni quindi ora quest'ultima è libera e può finalmente ritornare prepotentemente nella trama anche se è stata spoilerata in modo alquanto cattivo dalla opening ad ogni modo che fino ha fatto zik so che alcuni di voi si domandano dove sia finito lo jaeger maggiore io vi mostro un piccolo frame dello scorso episodio ma non vi dico altro penso che possiate capirlo senza che ve lo dica in un modo molto più approfondito e senza oltrepassare la barriera dello spoiler inoltre è stata interessante la scena di gabby che si guarda allo specchio e che si lega i capelli per farsi la coda che va a contrapporsi alla scena di eren che ha fatto la medesima cosa nella scorsa stagione ciò ci fa capire quanto siano simili due personaggi soprattutto il cambiamento della ragazzina eldiana è avvenuto lei ha capito tutto i veri demoni non erano coloro che si trovavano all'interno delle mura ma lo erano coloro che si trovavano al di fuori di quell'isola che vedevano quel popolo in malo modo anche il discorso del marreiano è stato interessante dove afferma che in ogni essere umano si nasconde un demone naturalmente la sua parte è molto filosofica e che comunque racconta del vero non esistono persone totalmente buone o totalmente cattive e questo lo si può spiegare benissimo grazie allo ying e allo yang dove ci sono le due controparti ossia il bene e il male che al loro interno hanno un po della loro controparte ma il cambiamento non arriva solo per gabby ma arriva anche per kaya anche lei capisce tutto ed insieme alla propria famiglia salvano la piccola cadetta e la portano con loro andando ad incontrare armin e compagni alla fine dell'episodio ma parlando di cose serie sappiamo bene che lo studio mappa è bravissima ad animare a disegnare soprattutto a creare degli effetti speciali che riescono a rendere epiche certe scene ma come ho sempre detto questo studio non sa disegnare i giganti puri e non sa animare le scene che riguardano il movimento tridimensionale perché in questo episodio potevano far vedere tutto ciò che sapevano fare dimostrandosi superiori al vecchio studio di animazione che animava attack on titan ossia il weed studio ma niente da fare peccano troppo in questo lato anche se la scena dove il gruppo di jean e company scendono dalla torre per uccidere i giganti puri con le lance fulmine è stata pazzesca però diamo a cesare quel che è di cesare il montaggio che hanno fatto è stato molto bello e la canzone usata per rendere epica quella scena è stata perfetta e vedere purtroppo morire nile e pixies non è stato molto bello anzi rivedere per me le loro morti che avevo già visto nel manga tempo fa è stato veramente di impatto anche se preferisco la parte cartacea per quanto riguarda la faccia di pixies gigante normale quella dell'anime ci mancherebbe ma quella disegnata da isayama è più disturbante ed inquietante come dovrebbe realmente essere ora però dobbiamo parlare del fattore falco e del desiderio di coni falco come potete ben immaginare ha ereditato il gigante mascella quindi ora può trasformarsi in esso e vivrà purtroppo solo per 13 anni al che coni però decide di rapirlo e usare il povero bambino per far ritornare sua madre che sta ancora lì nel suo villaggio natale ad aspettare in vano il momento in cui ritornerà umana falco è ovviamente un ottimo escamotage per far sì che ritorni umana ma secondo me non è il modo perfetto per farlo perché anche se ci riuscisse la madre di coni vivrebbe solamente per 13 anni inoltre in questo episodio viene fatto intendere che eren grazie al potere del fondatore può ritrasformare i giganti puri in umani e viceversa però perché non lo ha fatto forse perché la madre di coni è stata trasformata con il fluido spinale di zik quindi è per questo che non può ritrasformarla come era prima ed è per questo che non può controllare i giganti puri che si trovano a shingashima cioè quelli che hanno bevuto il vino che conteneva il fluido spinale del gigante bestia questa cosa è un po strana perché potrebbero esserci due semplici spiegazioni la prima è che eren non vuole farlo però il suo obiettivo è distruggere la razza umana che si trova al di fuori di paradis la seconda potrebbe essere che essendo stati trasformati da zik che possiede il dna reale eren non può comunque controllare tali giganti nonostante possiede il fondatore perché va in contrasto con chi possiede il sangue della dinastia reale degli eldiani cioè è un casino ma potrebbe essere una di queste due ipotesi che dire è stato un episodio alquanto scarro se vogliamo parlare di informazioni è stato molto più action che narrativo se così vogliamo dire ora abbiamo visto che annie è ritornata abbiamo visto che il padre è ancora vivo quindi basta fare 2 più 2 potete capire il perché del ritorno di annie a parte ciò mancano 7 episodi se non erro e siamo arrivati al capitolo 123 su 139 il 121 è stato totalmente saltato per ora quindi ora non so davvero come faranno a chiudere l'opera in così pochi episodi che ci sia realmente un film che darà la degna conclusione a questa gigantesca epopea chissà chi vivrà vedrà e detto ciò vi ricordo come sempre la collaborazione con pampling ed usando il codice il gru 91 avrete diritto ad un paio di calze in regalo trovate il link in descrizione spero che il video sia stato di vostro gradimento fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto e non dimenticate di entrare nel canale telegram di one piece unity dove troverete tanti fan di one piece con cui discutere pacificamente e noi ci sentiamo come sempre in un prossimo video